Intanto una velocissima definizione di cosa vuol dire una minoranza etnica o etnolinguistica. Minoranza etnica o etnolinguistica vuol dire che esiste una comunità con una propria lingua, con una propria cultura, lingua e cultura che si è sviluppata nel tempo. Ecco, poche parole. Questa all'interno di una comunità più grande come potrebbe essere quella trentina o italiana, con tutta la retorica che si parla di multiculturalismo, come convive in una società come quella trentina avere all'interno delle minoranze, come si amalgama tutto questo? Ma come vive? Questo dipende sempre dal contesto storico, no? Naturalmente sì, mi riferisco a questo. Sì. In questo momento sicuramente c'è una riscoperta, sia all'interno delle singole comunità minoritarie, sia all'esterno. Vuol dire che persone che non fanno parte di una minoranza si interessano della cultura e della lingua delle singole minoranze. E in particolare, e questo mi pare molto interessante, sono i giovani che sempre più si interessano di queste lingue e di queste culture, di comunità linguistiche, come Annivale Salsa oggi ha detto che si dovrebbe usare quel termine, no? Ecco. Perché secondo lei? I giovani, sì, perché i giovani vedono la ricchezza che sta nella diversità, no? E questo mi pare molto importante, no? I giovani cercano tanti lati della vita, no? E scoprono che ci sono delle persone che parlano una certa lingua, una lingua diversa, e che questo, in fondo, è una ricchezza, no? Si usa anche il termine valore aggiunto, ecco. E questo effettivamente esiste, no? E se pensiamo, diciamo, anche il fatto di dover conoscere più lingue facilita questo approccio, questo avvicinarsi, no? Ecco, questo sembra. E' quindi un avvicinamento sincero, non un amore per l'esotico, per il diverso? Certo che è sincero. Sono convinto di questo. E questo viene anche percepito, no? Dall'appartenenti delle comunità linguistiche, ecco. E questo mi pare molto importante. Io ho partecipato proprio l'altro giorno alla giornata, ecco, delle minoranze o comunità linguistiche del Film Festival della Lissigna. E l'interessante è anche lì che i registi che hanno realizzato dei filmati, dei documentari, sono tutte persone di un'età giovane, ecco. Ma anche gli attori. E c'è un approccio sincero perché non sono registi pagati, ma che hanno una propria professione e che nel tempo libero si dedicano a questa tematica. Certo, certo. Questo festival si parla di economia, di lavoro, quindi si cerca di parlare di concretezza. Si cerca di andare al nocciolo della questione, quindi la difesa della comunità montana, la difesa della minoranza etnolinguistica, della comunità etnolinguistica. Quali sono le politiche che effettivamente servono a tutelare una comunità etnolinguistica, una minoranza etnolinguistica, una comunità comunque? Le politiche, adesso pensando al lavoro, vuol dire creiamo anche dei posti di lavoro che possano sviluppare anche la cultura. Proprio recentemente la regione ha presentato i risultati di una ricerca su minoranze comunità linguistiche e turismo nella valle dei Mocchini, nel Bersentol e a Luserna, presso perciò la comunità Cimbra. Ecco, i risultati sono questi che il turista è interessato alla lingua e alla cultura di queste comunità linguistiche e viceversa anche, e anche lì in particolare i giovani, hanno la voglia di trasmettere. Questo vuol dire anche poter creare posti di lavoro, le guide, le guide culturali. Cerco di fare un po' il bastian contrario, se posso. Il turismo ha delle possibili ripercussioni negative su queste comunità. Sto ragionando un attimo, nel senso che portare un turismo non colto, non finalizzato in queste comunità e preservare quelle comunità come ferme nel tempo, alla lunga può nuocere a queste nuove comunità. Non c'è questo rischio che fermare una comunità perché ha una sua peculiarità, non la renda viva, la blocchi, la cristallizzi. L'importante è che il turista che visita la valle dei Mocchini o Luserna o anche le valle Ladini sappia che entra in un territorio dove vive una comunità che parla una certa lingua, che ha anche una certa cultura. Questo è importante. Io penso che il turista, anche se non lo sa all'inizio, comunque scopre qualcosa di nuovo. E questo sicuramente può sviluppare un maggiore interesse per quella zona lì. Ultima domanda e poi la lascio. Per chi lavora quotidianamente alla difesa di queste comunità, cosa si potrebbe fare di meglio? Cosa lo Stato magari potrebbe fare di meglio? Dove difficitiamo? Fare più rete, ecco, questo sì. Scambiare le esperienze in modo organico e, ecco, di creare più collaborazione fra gli operatori e fra i responsabili. Questo sì, questo sì. Questo deve essere migliorato. Penso che i responsabili, diciamo, i responsabili ad altissimo livello devono veramente riconoscere la ricchezza e il valore di queste comunità linguistiche. Penso che lì ancora qualcosa, diciamo, si potrebbe... Si può migliorare. Si può migliorare, sì sì. Grazie mille. Ok. Va bene. Grazie. 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 Grazie.